Il carabinieri della tenenza di Schigler hanno arrestato Irina e la fragranza di reato nel 19 anni operai incensurato del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare in casa del giovane, scaturita dal fatto che nei presi dall'abitazione era stato notato un vivaggio via via di giovani, i militari hanno rinvenuto una busta sospetta. All'interno c'erano infatti circa 100 grammi di marijuana già pronta per lo spaccio e ben occultati in una cucina. Lo stupefacente, una volta emesso sul mercato, avrebbe fruttato circa 300 euro di guadagno. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato quindi posto agli arresti domiciliari a disposizione del PM della procura di Ragusa. I servizi di controllo del territorio da parte dei militari della compagnia di Modica proseguiranno per tutto il fine settimana.